Si avvicina il periodo natalizio, il momento preferito dei bambini. I più piccini infatti sono quelli che in famiglia ricevono sempre la fetta più grande di regali. Ma anche gli adulti ne approfittano per scrivere una lista dei desideri, nella speranza che qualche caro, un amico, un parente riesca ad azzeccare la sorpresa e spuntare così una voce dell'elenco. E' il periodo in cui ci si scambia un dono come segno del proprio affetto e la cura apposta persino nella realizzazione della confezione, decorata con tanto di palline di Natale, fiocchi e ghirlande e un modo come un altro per dimostrare la propria attenzione verso l'altro durante i giorni di festa. Nonostante il difficile momento sia da un punto di vista sanitario che economico a causa della pandemia, si cerca di pensare al Natale, una festività che generalmente porta anche ad un aumento dei consumi. E così la ConfCommercio di Caltanissette ed Enna invita i cittadini a sostenere le realtà locali, acquistandone gli esercizi commerciali presenti sul territorio, anche semplicemente tramite un buon acquisto. Una campagna di sensibilizzazione che parte da un appello e arriva alla creazione di un sito per mettere in una vetrina virtuale le attività cittadine. Il Natale ci vede alle porte e ConfCommercio sta cercando di supportare e sostenere tutte quelle aziende locali che stanno vivendo a seguito della pandemia una grande criticità economica. ConfCommercio si è vista protagonista nella creazione di un portale acquista sotto casa, dove si andrà a creare un portafoglio di proposta delle varie aziende locali per sostenerle e quindi indurre le persone a fare una scelta di acquisto locale per lo shopping natalizio. Noi siamo fiduciosi sulla sensibilità delle persone e dei singoli cittadini, perché ricordiamoci che ogni vetrina che si spegne è una perdita per la collettività. Un altro messaggio molto importante, ricordate di indossare la mascherina, che è uno di quegli elementi che ci può far superare questo brutto momento.